Dalle prime ore della mattina nella provincia di Napoli, Salerno, Potenza e Catanzaro, il personale della Direzione Investigativa Antimafia e del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari personali e reali nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza su un traffico internazionale di rifiuti speciali tra l'Italia e la Tunisia. L'operazione ha impegnato circa 80 unità tra carabinieri del reparto speciale dell'arma e personale della Direzione Investigativa Antimafia, la Procura di Potenza e sulle tracce di traffici, di rifiuti anche su altri fronti e in particolare nel Materano. Lo stesso sostituto procuratore titolare delle indagini nei mesi scorsi aveva dato il via anche ad una campagna di scavo con il genio dell'esercito in una cava di Garaguso alla ricerca di scorie interrate. Tra le due vicende al momento non sono però emersi collegamenti.